Radio Doc, Radio Doc, Radio Doc, musica a denominazione d'origine controllata, Doc Radio. Chi c'è? Sapete chi c'è? Ma oggi chi c'è? Cucece, tra il serio ed il faceto, interviste con Antonio Puglisi e Cucece. Buon pomeriggio e benvenuti nuovamente a questo ulteriore appuntamento, l'ottavo se non vado errato di Cucece verso le amministrative in diretta sia radiofonica che in video, quindi salutiamo tutti gli amici che in questo momento ci stanno seguendo anche tramite il nostro sito internet, Radio Doc.tv e ringrazio anche gli ospiti di quest'oggi perché oggi parliamo delle amministrative del comune di Capodorlando, si voterà, lo ricordo ancora per chi non lo sapesse, il prossimo 5 giugno e a quanto pare gli scrutini cominceranno sempre nella giornata di domenica sera alla chiusura appunto dei seggi, quindi intorno alle 23.30. e questo prevede anche, ve lo anticipo sin da adesso, una trasmissione non stop elettorale per quanto riguarda anche la nostra emittente radiofonica che saremo in diretta dalle 23.00 di domenica sera per seguire insieme gli scrutini con ospiti in studio, naturalmente con i commenti, con i risultati dei vari comuni dove si andrà a votare in tutto il comprensorio perché come già avete potuto avere modo di constatare la settimana scorsa con la puntata dedicata a tutti i comuni dove si va a votare, i nostri corrispondenti ci relazioneranno rispetto ai vari comuni dell'Interland dove si andrà al voto. Allora, dicevo, parliamo del Consiglio Comunale di Capodorlando, sono 4, ben 4, gli ospiti di questo pomeriggio qui a Radio Doc, ve li presento, alla mia destra Francesca Pietropaolo, 51enne, agente assicurativo due figli Ivana e Marco, mai in Consiglio Comunale o in Giunta, quindi mai avuto esperienze amministrative è stata militante dei DS, attualmente iscritta nel PD, presidente dell'associazione Recitando e Parlando e sappiamo pure la sua grande passione per il teatro. Accanto, intanto, buon pomeriggio Francesca. Buonasera Antonio, buonasera a tutti. Allora, accanto a Francesca, Carmelo Galipò, 36 anni, cooperatore, sposato con Marianna, una figlia, gioia, consigliere comunale, eletto dal 2006, eletto nelle ultime amministrative del 2011 nella lista Insieme per Cambiare con 200 preferenze, tonde tonde. Entrambi sono candidati in due liste che sostengono il candidato a sindaco, Franco Ingrillì, precisamente Francesca Pietropaolo in Partiamo da Capo e Carmelo Galipò insieme per Cambiare. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te, Carmelo Galipò. Invece, alla mia sinistra, abbiamo Sebastiano Giuffrita, 38enne, consulente finanziario della Fineco, sposato e padre di due figli, Ettore e Tecla, mai in consiglio, in giunta anche lui, presidente dell'Inter Club di Capodorlando, che ci risulta, registra al momento il maggior numero di iscritti nella regione. Mi pare che sia così. Confermo, buonasera a tutti. Alessio Micale, invece, 37 anni, dipendente, consigliere comunale, uscente, elettronalista, Librizi sindaco, con 144 preferenze nel 2011, ha avuto in giovinezza la tessera dei Verdi, spesso impegnato in manifestazioni legate all'antimafia. Buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio, Antonio. Buon pomeriggio a tutti. E allora, vi dico subito le regole del gioco per quanto riguarda questa puntata, siete quattro, quindi siete in tanti. Vi anticipo che avrete due minuti a testa per rispondere alle mie domande. Naturalmente, per chi ne facesse richiesta, avete anche la possibilità di avere il diritto di replica, se volete replicare a qualcosa che dice uno di voi. Quindi, io direi di cominciare subito con l'ultimo presentato, cioè con Alessio Micale. È una domanda che rivolgerò a tutti i candidati. Qual è la motivazione che ha spinto Alessio Micale a ricandidarsi nuovamente da consigliere comunale uscente e soprattutto perché ha deciso di sostenere Salvatore Librizi alla candidatura di Primo Cittadino? Ho scelto di sostenere Salvatore Librizi perché secondo me è un buon candidato e se i cittadini orlandini gli daranno mandato con il consenso, sarà sicuramente un ottimo sindaco. Per me la candidatura è semplice, è una candidatura in continuità. Mi ricordo dell'esperienza di cinque anni fa quando in pochissimi iniziamo a incontrarci, parlare e a strutturare le liste. Eravamo davvero persone che erano staccate dalla politica ma con una grande voglia di partecipare a quelle elezioni. Per me quindi è una scelta conseguente e una scelta, come dicevo prima, in continuità. Nell'esperienza da consigliere ho avuto anche la possibilità di affinare quelle che erano le mie conoscenze politiche, che nonostante il piglio perché la politica mi piace e mi è sempre presciuta da quando ero ragazzino, nell'attività consigliare hanno visto anche i colleghi consiglieri essere sprone e motivo di crescita culturale nell'azione politica. Un'azione politica di opposizione o un'azione politica che non si è mai interrotta. Bene, stessa domanda anche per Sebastiano Giuffrida. È la sua seconda candidatura, Giuffrida, perché era già stato candidato con sempre Salvatore Librizi, se non vado errato, nel 2011 ma non è riuscito a diventare consigliere comunale. Come mai questa volontà di volerci riprovare? Di solito uno quando perde poi ci ripensa, poi non so se adesso mi conviene rimettermi in gioco, invece sembra che da questo lato la decisione sia stata immediata. Assolutamente sì, anche perché è una questione di coerenza, di realtà verso il mio candidato a sindaco che è Salvatore Librizi. È un progetto che abbiamo costruito insieme, insieme a lei e insieme ad altri ragazzi, già dal 2010, per cui è assolutamente in continuità. Grande coerenza, grande realtà e grande partecipazione in questi anni anche attraverso l'associazione Paese Parallelo con la quale abbiamo fatto e creato tantissime attività, sempre con il presidente Salvatore Librizi. Adesso quindi appoggio assoluto la sua candidatura e metterò a disposizione degli elettori, dei cittadini, ovviamente di nuovo la mia persona, anche perché sono abituato che quando perdono raggiungono un obiettivo, per una questione di ambizione e voglia di fare lo devo raggiungere. Bene, adesso stessa domanda anche per Francesca Pietropaolo. Anche lei, reduce da un'altra campagna elettorale del 2011, però si trovava dall'altro lato, cioè mi sembra che era candidata in una lista, democratici, per Capodorlando, che appoggiava Salvatore Librizi. Allora perché la scelta questa volta di appoggiare Franco Ingrilli e soprattutto perché la volontà di rimettersi in gioco nuovamente? Sì, entro nuovamente in gioco, lo faccio convintamente, lo faccio adesso accanto a Franco Ingrilli, nella lista partiamo da capo. Conosco Franco e credo convintamente nel suo progetto e nella squadra che ha attorno. Un progetto reale, concreto e fattibile per lo sviluppo del paese. Uno dei primi punti di Franco è lo sviluppo sostenibile del nostro paese e soprattutto il lavoro verso i giovani. Condivido perfettamente il suo programma, lo condivido pienamente, scusate. Quindi ho voglia di rimettermi in gioco accanto a lui e di dare dimostrazione delle mie competenze e della mia professionalità, competenze acquisite in questi anni nell'associazionismo e nella politica attiva. Bene, mentre per Carmelo Caripò si tratta di un ritorno, peraltro è letto due volte consecutivamente, nel 2006 e nel 2011, diciamo che in linea di Massimo, come mi è capitato già di scrivere, il suo progetto politico è rimasto sempre fedele a quello che è l'attuale lista alla quale fa parte, cioè la vicinanza a Massimo Carrello, quindi a Insieme per Crescere. Nuovamente in gioco perché? E soprattutto perché il sostegno adesso a Franco Ingrilli? Il motivo della mia candidatura è sempre lo stesso, quello di dieci anni fa nel 2006 quando ho deciso di scendere in campo l'ho fatto perché per me la politica è un diritto di ogni cittadino e è un dovere anche di ogni cittadino che ha la facoltà e la voglia di svolgere questo ruolo. Credo che farlo da protagonista e non da spettatore passivo sia nelle facoltà di ognuno, nelle possibilità di ognuno e credo che il paese in cui viviamo che ci è stato dato in prestito, ecco questa era la definizione che scelsi nel 2006, il paese che dove viviamo ci è stato dato in prestito dai nostri figli, non l'abbiamo ricevuto da nessuno, quindi a loro lo dobbiamo restituire sempre più bello, sempre più vivibile. Scelgo il progetto di Franco Ingrilli perché intanto mi fido di Franco Ingrilli, Franco è stato capace di mettere insieme esperienze anime diverse, come quelle che fanno parte della nostra coalizione, della nostra lista e fare da sintesi rispetto a quel progetto inserendo nel suo progetto politico, nel suo programma politico molti punti che noi abbiamo sostenuti in questi anni da minoranze in Consiglio Comunale. A proposito di questo partiamo per la prossima domanda proprio con Carmelo Galipò perché qui ci sono due esponenti del Consiglio Comunale uscente che fanno parte però entrambi della minoranza. Uno però è candidato adesso con chi dice di essere la prosecuzione di quello che è l'attività amministrativa di questi ultimi cinque anni, l'altro invece è rimasto ancora con chi lo ha eletto nella minoranza. Però una cosa devo dire è che in ogni caso ci sono dei punti che vi accomunano e la prossima domanda è proprio relativa a questo, cioè a quello di aver raggiunto comunque in questi ultimi anni una certa trasparenza a livello consigliare perché se non ricordo male mi sembra che sia partita dalla minoranza, l'idea di poter trasmettere il Consiglio Comunale sul web, poi come è andato a funzionare insomma ci sarebbe da discutere, però comunque è stato fatto, magari non ha funzionato sempre ma è stato fatto. Come anche diciamo proprio questo utilizzo del sito internet del Comune di Capodoro, andando molto trasparente, è possibile per chiunque, per qualsiasi cittadino cercare una delibera, un atto esposto all'albo, insomma è veramente una cosa, quindi parte anche dall'opposizione l'idea di fare amministrazione. Però una cosa che secondo me accomuna anche voi in negativo è la mancanza di partecipazione al Consiglio Comunale in questi ultimi anni. Ecco perché secondo voi è successo questo e soprattutto se possiamo partire proprio dalla trasparenza, questa doveva portare magari una maggiore partecipazione, però così non è stato. Tocca a me? Guarda, io credo che il problema della partecipazione dei cittadini nella vita politica sia un problema di carattere generale. In tutto il paese, con la P maiuscola, quindi in Italia c'è questo distacco tra il cittadino e le istituzioni che noi abbiamo cercato e devo dare merito a Alessio perché l'iniziativa dello streaming del Consiglio Comunale è stata sua, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, di attenuare. Ma abbiamo cercato anche noi come gruppo consigliare di attenuarla nel tempo attraverso iniziative. Ricordo il forum dei giovani, per esempio, che è stata un'iniziativa che io stesso presentai alla fine della scorsa consigliatura in Consiglio Comunale e che è andata in porto fortunatamente riuscendo a portare l'amministrazione dell'epoca sulle nostre posizioni e riuscendo ad avere questa sorta di consulta, di giovani come organo consultivo dell'amministrazione comunale. Credo che a fare da deterrente rispetto a questo distacco tra i cittadini e le istituzioni ci sia il fatto di non continuare a rappresentare negatività, sempre negatività, un paese negativo perché è responsabilizzante nei confronti dei cittadini che si chiederanno perché impegnarci, perché impegnarsi a fare politica se va tutto male. Io credo che anche per esempio un inciso sui partiti, partiti che dal 94 hanno avuto, partiti politici mi riferisco ovviamente, che hanno avuto dal 94 un calo esponenziale di presenza al loro interno e che erano dei contenitori dove si faceva veramente politica nel bene e nel male ovviamente nella cosiddetta prima repubblica. Credo che ritornare a un modello partecipativo serva a tutti, serve a ravvicinare i cittadini alle istituzioni. All'interno del programma di Franco Ingrilli c'è ovviamente la possibilità di riattivare le consulte comunali che noi avevamo chiesto insistentemente in passato e ci sono le consulte, dicevo, le consulte giovanili, le consulte comunali, il bilancio partecipativo, tutta una serie di attività che possono attenuare questa distanza tra le cittadine e le istituzioni. Allora, Alessio Micale, lo stesso consigliere Carmelo Caripò ha dato atto di questa trasmissione dei consigli comunali sul web, ma perché non c'è più partecipazione dei cittadini, secondo lei? Noi viviamo in Italia che ha una classe politica che ha dato grande prova di essere inopportuna e inefficace, di essere certe volte quasi collusa dei sistemi che non vanno assolutamente riproposti. L'impegno anche da consigliere comunale in un'amministrazione locale è quello di limitare tutte le possibilità che i governanti hanno di incidere negativamente sui cittadini, tutte le concentrazioni di potere che vedono il cittadino vessato e che vedono il cittadino incapace di reagire. Allora, i modelli partecipativi, i modelli che vedono una coscienza alimentata dalla possibilità di vedere le cose, sono i modelli che dobbiamo assolutamente incentivare e sostenere. Un modello fra tutti è quello di Giosi di Bacoli. Giosi di Bacoli è il sindaco di un comune di 20.000 abitanti in campania ad alta pressione mafiosa. A 22 anni questo ragazzo era consigliere comunale. Piuttosto che fare un'attività all'interno del consiglio, ha aperto un sito che si chiama Fribacoli che consentiva alle persone, cittadini onesti di ogni estrazione sociale di poter partecipare. E quando c'era per esempio il bilancio, Giosi di Bacoli non faceva a capo una sua idea ma andava da loro con tutte le forme di partecipazione alimentandoli e diceva, cari signori, qua c'è il bilancio, l'amministrazione comunale ha deciso di fare questo. Noi che dobbiamo fare? E allora raccoglieva tutte le valutazioni e le portava in consiglio comunale. Questo è il ruolo di un consigliere. Il ruolo di essere semplicemente non autoreferenziale rappresentante della propria figura ma il ruolo che vede portata nel punto più alto della rappresentanza che è il consiglio comunale quelle che sono le istanze di cittadini. Si chiama politica partecipata e se questo dovesse avvenire i cittadini non hanno più un alibi. Poi è stato eletto con il 70% dei voti. Sebastiano Giuffrida, è questo il motivo come anche diceva il consigliere Galipò cioè quello di rappresentare anche un paese sempre in maniera negativa che probabilmente ha allontanato un po' i cittadini oppure come sempre lui stesso diceva questa disaffezione nei confronti dei partiti politici? Sicuramente la disaffezione nei confronti dei partiti politici c'è ma chi ci ha rappresentato sino ad oggi, vedi Carmelo ha parlato della consulta giovanile o del bilancio partecipato, due iniziative sicuramente molto molto interessanti ma che purtroppo non sono state portate avanti. Quindi la classe dirigente di questo paese o non è riuscita a coinvolgere o non ha voluto coinvolgere i cittadini, cose che noi invece stiamo cercando di incentrare e concentrare per quanto riguarda per esempio la costruzione del programma, per quanto riguarda il programma partecipato. Ho sentito l'altra sera il candidato Ingrillì durante la presentazione della lista Insieme per Cambiare che chiedeva a gran voce dove fosse il nostro programma. Ebbene il nostro programma è pubblicato online da tre mesi sul sito sardotolibrizi.it bastava semplicemente visitare la pagina per rendersi conto che c'è un programma con delle macro aree e delle micro aree che riguarda poi tutti i punti salienti che abbiamo inserito nel programma. Pertanto prima di magari sbandierare una cosa del genere bisogna documentarsi. Per cui noi ci proponiamo e ci prefissiamo l'obiettivo di riportare i cittadini al Consiglio Comunale proprio per un'attività partecipativa. Lo stiamo facendo con delle iniziative. Ogni mercoledì noi invitiamo delle persone, entrata libera, chi vuole può venire, può partecipare. Abbiamo avuto grande successo in termini di partecipazione perché quando tu vedi che in una sala ci sono 150, 180, 200 persone che propongono delle idee. Questa è una cosa positiva perché è il coinvolgimento della cittadinanza. E allora il nostro programma partecipato parte da qui per poi portare di nuovo le persone in Consiglio Comunale. Il sogno sarebbe, come il consigliere Galipò sicuramente ricorderà, è quello di un Consiglio Comunale all'Australiana. Abbiamo avuto la fortuna di assisterne uno insieme dove praticamente il sindaco e l'amministrazione dà le risposte ai cittadini che hanno fatto nel Consiglio Comunale precedente. Cioè i cittadini fanno delle domande, loro si prendono il tempo di una seduta, si riuniscono di nuovo, convocano il Consiglio Comunale dedicato esclusivamente a rispondere ai cittadini. Dalla lampadina che va cambiata ai problemi più seri. Ricordo che eravamo insieme in Australia a vedere questo. Francesca Pietropaolo, prima di andare in pubblicità, un minuto e mezzo, due minuti al massimo per Francesca e poi andiamo subito in pubblicità. E proprio questi sono i motivi che non hanno portato. E soprattutto cosa pensate di fare voi per riportare nuovamente la gente in Consiglio? Quello che dici tu è un question time a favore dei cittadini e l'idea è ottima, l'avevamo anche trattata nel programma di Franca Ingrilli. Io sono convinta che i cittadini debbano partecipare attivamente alla vita amministrativa e quindi partecipare ai consigli comunali, come sono anche convinta che l'amministrazione deve comunicare al meglio con i cittadini, far capire cosa ogni giorno si fa per perché il paese vada avanti e perché migliori nello sviluppo. E se i cittadini non vanno in Consiglio comunale allora cosa si deve fare? Sarà l'amministrazione ad andare verso i cittadini perché va bene la diretta streaming, va bene le consulte, va bene tutto quello che abbiamo detto finora, ma allora dobbiamo fare un passo avanti noi verso i cittadini. Su questo ho un punto del programma di Franca Ingrilli che mi piace sottolineare e a proposito di trasparenza, a proposito di raccogliere tutte le stanze dei cittadini e le cose che non vanno, ci saranno tre dipendenti comunali che gireranno nelle contrade nel centro per raccogliere loro le istanze dei cittadini e portarle poi nel comune e cercare di risolverle al meglio. Oltre che un numero verde che si affiancherà al sito web del comune che già c'è. Bene, a proposito dei programmi elettorali ci tengo a dire una cosa, voglio dire, non è la prima elezione che seguo da giornalista e i programmi elettorali ormai, a qualsiasi lato arrivino, hanno un peso diciamo sempre meno pesante, ecco scusate il gioco di parole, perché se dovessimo ogni cinque anni a fine mandato riprendere il programma elettorale della persona eletta e ripercorrere punto per punto quello che si è fatto o non si è fatto non riusciremo più. Quindi diciamo che i programmi elettorali si è bene che la gente sappia quali siano in linea di massima le linee che vogliono seguire i candidati che si propongono ma poi alla fine sui punti specifici ci sarebbe perché perché dico questo perché all'inizio anno di questa legislatura a meno mi ricordo che ci fu un question time tra i consiglieri e l'amministrazione. Quanto durò? Quattro mesi, cinque mesi, poi mi pare che finì lì e invece era una cosa interessante. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Conoscere, sapere, ridere, su Radio Doc. Cuccece, Cuccece, tra il serio e il faceto. Ecco cominciano a scaldarsi gli anni, no siamo scherzati naturalmente. Allora continuiamo con la trasmissione di questo pomeriggio, Cuccece, stiamo parlando delle elezioni comunali a Capodorlando, soprattutto del Consiglio Comunale. Abbiamo due esponenti per coalizione, praticamente per sostegno a sindaco sia dal lato di Salvatore Librizi che di Franco Ingrillì. Partirei adesso nuovamente con Sebastiano Giuffrida per parlare di questa campagna elettorale perché si è tanto parlato di toni pacati, devo dire che i due candidati a sindaco sino a questo momento, ricordiamo da domani ce l'ha par condicio, quindi insomma si entra veramente nel vivo della campagna elettorale. I toni mi sembrano decisamente pacati per quanto riguarda i due candidati a sindaco, entrambi si tirano qualche frecciatina ma nel rispetto dei ruoli e soprattutto nell'educazione massima. Qualcosa si sta accendendo, la presentazione della lista per esempio di quale fa parte Carmelo Galipò è stata una presentazione, come dire, massiccia, nel senso sia come numero di persone che come contenuti è stata piuttosto forte. Ecco, continuerà ad essere così, nel senso i toni rimarranno tali o prevedete che qualcosa cambia e soprattutto come state vivendo voi questa campagna elettorale? Partiamo da come sto vivendo io la campagna elettorale, sicuramente in modo molto intenso perché i ritmi sono serrati, siamo a 30 giorni dalla data del 5 giugno per cui si dorme poco, si è molto impegnati sicuramente nella ricerca del consenso, poi nelle manifestazioni che facciamo, negli eventi che creiamo settimanali, lo ricordo noi ogni mercoledì incontriamo i cittadini per il programma partecipato, domani sera inaugureremo una nuova sede in via 27 settembre angolo via Tripoli del candidato al consiglio Carlo Galipò con tutti i paladini d'Orlando e tu parli di toni pacati, riprendo un articolo che hai pubblicato, mi sembra stamattina ieri, non so dopo la presentazione della lista insieme per cambiare, beh c'è chi predica bene ma razzola male perché si è parlato di toni... preferivo ai due candidati al sindaco, che i toni sono pacati. I toni sono pacati sicuramente sì, abbiamo intenzione perché ci rispettiamo, ci conosciamo tutti, abbiamo intenzione di mantenerli tali, però quando... io ho sempre stimato devo dire il dottore Carrello, ma quell'uscita, quell'esternazione nei confronti di Salvatore Librizi mi ha lasciato particolarmente basito perché non potevo mai immaginare. Per cronaca bisogna ammettere che ha precisato poi tramite social... Ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, però siccome c'è stato un articolo di stampa nel quale c'è scritto, riportato, che è stato detto che Salvo Librizi abbia votato per Salvo Lima nel 1989, quando... Non era quello a cui si stava riferendo prima il mio, era un altro. Ok, ok, io sto parlando di toni pacati, mi sto portando su una affermazione ben precisa da parte di una persona che ho nominato, che rispetto, che stimo, ho stimato sempre in passato e ripeto non mi ha aspettavo una sua affermazione così grave. Ho visto poi che è ritornato un po' sui suoi passi, sui social network, perché dice probabilmente me la potevo pure risparmiare. Magari preso dall'enfasi dell'intervento ha detto questa cosa, però se volessimo continuare a tenere i toni bassi cerchiamo di farlo tutti ed è un invito a mantenerli bassi. Carverro Canipò, anche perché vorrei dire, cioè in quella presentazione mentre lui diceva quelle cose c'era anche un sostenitore della vostra lista che è Basilio Decembrino, che è innegabile, che in quel periodo è del capo, infatti, della democrazia cristiana e che quindi insomma però ha precisato, ribadiamo, Massimo Carrello dopo, un giorno dopo, che non era riferito al candidato a sindaco Salvatore Librizi quanto da lui detto, quindi bisogna dirlo. Allora, rimarranno toni pacati o qualcosa si sta accendendo? Beh, io lo spero che rimangano dei toni pacati. Ritornando sulla vicenda non mi voglio sottrarre assolutamente alla domanda né alle dichiarazioni di Sebastiano. Ritengo che il dottore Carrello possa spiegare, se non l'abbia già fatto sui social, quanto ha voluto esternare durante la presentazione della lista nell'affollatissima sede di Piazza Stazione. Comunque, Sebastiano, ti voglio dire a brigante e brigante in mezzo, nel senso noi siamo stati attaccati da vostri supporter, da vostri sostenitori che spesso utilizzano mezzucci, anche l'anonimato per denigrarci e per gettare fango sulle nostre persone, sulla nostra lista, sulle persone che sono vicini ai sostenitori della nostra lista nella fattispecie. L'ultimo è di oggi. Sui social c'è una fotografia pubblicata con il nome mio e del dottore Carrello che, ripeto, ha già dato spiegazioni su quello che ha detto e ha promesso, credo, al direttore, me lo diceva prima della trasmissione, di volerlo precisare durante un, se vorrà il direttore, se vorrà invitarlo, durante una trasmissione radiofonica. Quindi, ripeto, non mi sottraggo alla risposta, brigante e brigante in mezzo, ma per me, i toni, l'ho detto durante il mio intervento, il rispetto deve essere alla base di ogni confronto, di ogni dibattito, alla base dell'attività politica di ogni singolo candidato. Sì, anche perché i cittadini non interessano tanto gli scontri, ma interessano i programmi partecipati e le iniziative che facciamo. Allora, Alessio Micale, vi chiedo gentilmente che se volete intervenire di chiedermelo, grazie. Allora, Alessio Micale, rispetto a cinque anni fa effettivamente mi sembrano più pacati i toni. Sì, a brigante e brigante in mezzo, ma poi alla fine uno rischia di diventare un brigante in mezzo se questo qua è il principio, non può essere un'azione di ripicca. Noi abbiamo un ruolo fondamentale, che è il ruolo di sostenere i cittadini che hanno bisogni oggettivi. Se ci sono delle cose terribili da sottolineare, è giusto sottolinearle, ma è giusto essere molto chiari, perché abbiamo l'obbligo della chiarezza. La mia campagna elettorale è un momento confuso nel quale ognuno è migliore di un altro e gli altri sono tutti terribili. Quello che mi succede e quello che vedo con grande evidenza è che i cittadini trovano grande conforto nel rapportarsi a persone che hanno avuto linea dritta, cioè che non si sono mai rapportate alla pubblica amministrazione in un'ottica di dipendenza, non si sono mai connesse. La campagna elettorale è naturale che dovrà essere una campagna elettorale equilibrata, perché noi, come ribadisco, abbiamo il dovere di rapportarci non a quelle che sono le nostre attività, ma ai cittadini, perché sono loro che sono l'indirizzo di ogni nostra azione. Francesca Pietropaolo, rispetto a cinque anni fa c'è qualche differenza? Come sta vivendo questa campagna elettorale? In maniera molto positiva. Queste sono polemiche sterili e inutili che non mi appartengono, quindi vado avanti nel presentare la nostra lista, nel presentare il candidato a sindaco, Franco Ingrillì, perché per questo motivo sono qua. Vivo in maniera intensa questa campagna elettorale, insieme alla squadra Partiamo da Capo, ne approfitto, anzi se permetti, per invitare tutti quanti ad un evento che abbiamo organizzato, domenica in Piazza Matteotti alle 19.30, ci sarà un pianista bravissimo che viene da Palermo, Santo Colomba, diversamente abile, un pianista sordo che la testimone ci farà capire che non sempre la disabilità è un problema, ma può essere un'opportunità. Questo per sottolineare quante sensibilità c'è nei candidati della nostra lista verso il sociale e verso la cultura, ed è questo che ci accomuna, anche se non siamo mai stati in Consiglio Comunale, questo è un punto di aggregazione. Infatti la vostra lista, se non mi sbaglio, è caratterizzata dal fatto che è composta esclusivamente da gente che non ha mai fatto parte né dell'amministrazione del Consiglio Comunale. Volevo una replica Alessio Micale, prego. Bellissima iniziativa, bisogna stare sempre molto attenti nelle campagne elettorali, come sapete mio fratello è sordo ed è il mio tifoso, ma per ovvie ragioni primo. Anche mia sorella, ci accomuna la nostra. L'attenzione, quello che volevo dire, perché quando c'è una, vi prego e se vuole direttore poi li leverà dopo, quando c'è una disabilità, per esempio fisica, se non ci fosse stata qua una passerella o una possibilità di accesso io non sarei potuto venire. Se io fossi stato sordo adesso, con delle idee, con delle cose a dire, levo le cuffie. Io non avrei potuto farlo. L'attenzione che si ha nei confronti dei disabili, il collega Galipò ha spesso lavorato su queste qua, deve essere reale, perché bisogna sostenere, esistono delle possibilità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, delle categorie protette. E allora le persone da sostenere, fra le categorie protette, sono da sostenere perché devono essere protetti, cioè perché non possono fare le cose che tutti gli abili fanno. Bene, allora cambiamo adesso argomento, passiamo a un argomento molto interessante per Capodorlando, secondo me il cuore di Capodorlando, cioè proprio quello legato al turismo, alla spiaggia, alla cultura, al teatro, insomma tutto quell'aspetto che riguarda non soltanto il sociale ma anche l'economia, cioè anche quello per il quale Capodorlando ha sempre usufruito anche dal punto di vista economico. Partirei con Francesca Pietropaolo. Nel programma di Franco Ingrilli, l'ho anche esposto durante la presentazione dello stesso nella vostra sede, c'è questo parlare di descementificazione dei torrenti, di interventi urgenti di ripascimento quando necessari, tutte cose che effettivamente, come ho già detto, non hanno portato nessun risultato o comunque non sono mai state fatte prima. Che cosa c'è di più che si può fare e che soprattutto intende fare Franco Ingrilli rispetto a quanto non è stato fatto prima relativamente soprattutto alla spiaggia? Che non sia stato fatto prima non significa che possa essere fatto adesso. Prima parlo degli ultimi trent'anni, cioè noi parliamo degli ultimi cinque anni. L'attenzione verso lo sviluppo economico del nostro paese passa sicuramente dal turismo, dalla cultura, dall'attenzione al territorio. Abbiamo visto che le alluvioni dell'ultimo periodo, abbiamo esempi eclatanti, insomma, nella provincia di Messina, i drammi che hanno portato. Quindi è chiaro che l'attenzione al territorio e alla buona gestione dei torrenti deve essere primario e nel programma di Ingrilli lo è. La spiaggia e il mare è il nostro punto di forza. Quindi sicuramente tenere pulito il nostro mare con l'attenzione al depuratore, su questo insomma sappiamo che ci sono dei soldi fermi alla regione perché questo benedetto depuratore finalmente abbia inizio e si presenti sempre il nostro mare come la cartina di tornaconto qual è per i turisti che sempre vengono. Sul discorso turismo, destagionalizzazione, eventi, valorizzazione di Castello Bastione e Villa Piccolo. Si pensa addirittura di fare a Villa Piccolo la sede per incontri istituzionali del comune. Ma soprattutto il fiore all'occhiello di questa amministrazione comunale di cui Franca Ingrilli e tutti noi dovremmo farci vanto è la costruzione finalmente di un teatro all'aperto. Si parla di un teatro di 3500 posti circa da realizzare in base certo ai vari studi, impatto ambientale, impianto acustico e probabilmente nella zona di San Gregorio Alto dopo in quanto sappiamo benissimo che quella è una zona da valorizzare tutta San Gregorio perché il porto fra qualche mese finalmente sarà finito e dobbiamo partire da lì ed arrivare al centro e alle contrade. Relativamente al depuratore i soldi fermi nella regione avrei qualcosa da dire perché è una battaglia. Bisogna esistere come tante altre battaglie che si devono fare con la regione. Che non è così dal punto di vista giornalistico mi permetto di dire così è una battaglia che sto portando avanti ma non riesco a far capire a tutti. Vedremo. Carmelo Galipò. Sì il teatro all'aperto da entrambe le parti c'è stata questa idea sia da Salvatore Librizi che da Franco Ingrilli di creare questo teatro all'aperto. Sono strutture che serviranno sicuramente a Capodorlando ma quello che mi preme e quello che mi ha sempre fatto rabbia guardando Capodorlando è proprio la spiaggia che è forse il bene primario che abbiamo come lo è il tramonto che poi voglio dire non è mai stato preso come simbolo del nostro paese se non a livello personale non istituzionale. Cosa si può fare? Questa decementificazione dei torrenti è realizzabile adesso veramente? Perché è un impegno che se si prende in programma elettorale, l'ho detto prima per quanto peso può avere un programma elettorale però bisognerebbe mantenerlo. C'è la possibilità? Noi ci crediamo che ci sia la possibilità di cominciare quell'attività che purtroppo da 30 anni a questa parte ha visto un'erosione continua delle spiagge di tutto il litorale non solo di Capodorlando. I 13 torrenti che ci sono sul territorio comunale invece dovranno costantemente essere manutenuti affinché riescano a confluire a mare tutto quell'apporto che continua ad alimentare la spiaggia. Ma oltre a spiaggia e pulizia dei torrenti io credo che il turismo debba essere come bene diceva Francesca destagionalizzato. Il nostro programma prevede tante iniziative come quella da non sottovalutare dell'adeguamento del palafontozzi per accogliere attività concertistiche per esempio. Scusa, io l'avevo già sentito nella convention che adesso ha fatto questa cosa ma è famoso il palafontozzi per i problemi di acustica che ha? Cioè nel senso non è una cosa e mi stupia anche a tempo sentirlo. Per questo c'è all'interno l'adeguamento del palafontozzi probabilmente anche per un problema di acustica. Ci ho parlato al microfono per tanti anni questo lo dico. Il turismo sportivo è già caratterizzante per il nostro territorio sapete che ogni domenica arrivano una domenica sì o no migliaia di persone per vedere la nostra larnia. Dobbiamo cercare di intercettare questi flussi di farli rimanere a Capodorlando e cercare di fargli fare qualcosa. Nel tempo abbiamo proposto anche percorsi naturalistici mi ricordo insieme Edoardo che è un altro candidato nella lista proprio di Francesca partiamo da capo. Un progetto che prevedeva di mettere insieme tutte le fontane che ci sono sul territorio comunale e di creare una sorta di itinerario all'interno del territorio comunale. Ecco tutte queste iniziative possono secondo noi far sì che Capodorlando ci si venga per guardare qualche altra cosa rispetto al solo stare a mare e stare in spiaggia. Una mano ce la devono dare gli imprenditori che su Capodorlando vogliono e devono investire e devono trovare terreno fertile per investire. Ecco questa è una buona idea. Ottimo, scusate. Adesso gli asta che mi possono impedire di dire ho aggiunto subito ci credo per evitare di stare rivedendo troppe volte. Non siamo in parcondicio quindi tutto sommato. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità poi torniamo con i due candidati a sostegno di Salvatore Librizi per continuare a parlare di questi due punti importanti cioè spiaggia e turismo e poi ce ne saranno altri. Alla fine ve lo anticipo ci sarà una dichiarazione di ognuno di voi di un minuto per un incentivo per votare sia voi che il vostro candidato a sindaco. Chiudo prima di dare a linea pubblicità facendo i complimenti anche alla squadra di basket di Capodorlando che ha raggiunto la salvezza e questa sera gioca la sua ultima partita e la certezza quantomeno di un altro anno di grande visibilità per Capodorlando. Quindi questo penso che quando si parla di Serie A è sicuramente un ottimo obiettivo. Ci fermiamo, ci troviamo tra pochissimi. Sul Radio Doc. Chi c'è? Chi c'è? C'è? Tra il serio e il faceto. Rieccoci nuovamente in diretta. Ultima parte del nostro programma. Andremo dritti fino alla fine senza interruzione. Riprendiamo con Alessio Unicale relativamente a questo punto. Abbiamo sentito i consiglieri Carmelo Galipò e Francesca Pietropaolo sulla spiaggia e quindi su quali sono le soluzioni che propone il programma del candidato a sindaco Salvatore Librizi sotto questo aspetto visto che è stato un aspetto non voglio dire trascurato negli anni ma sicuramente purtroppo l'erosione ha fatto la sua parte. Adesso di spiaggia ce n'è poca. Però io non devo dire che è stato trascurato. No, non l'ho detto manco io. No, perché l'amministrazione uscente e non so se Franco Ingrillier, perché qua si deve capire se c'è una continuità o no, perché l'amministrazione uscente ha strutturato ben due progetti di pennelli. Uno è il primo che riguardava pennelli che andavano dal faro fino alla fine del lungomare se non ricordo male. Dopo questo progetto è stato accantonato e ne sono stati previsti due per due diverse aree. Quella di Zappul è quella che va dal faro fino a San Gregorio che prevedevano dei pennelli. Quindi immaginate Mallandrino in un convegno organizzato al comune dove io ero presente ha detto questa è una chemioterapia tu al male rispondi con una cosa ancora più dannosa che distruggerà dei pennelli lunghissimi un muro e delle berne. Le berne sono dei pennelli più piccoli soffolti sotto il livello dell'acqua. Per questa progettazione che è stata affidata abbiamo il progetto preventivo con la promessa dell'esecutivo se non ricordo male. È stata fatta un'interrogazione. Mi sembra di averlo letto nel programma elettorale. L'amministrazione attuale ha previsto per contestualizzare meglio una cosa che è ben diversa da quella che Franco Ingrilli dice adesso. Dice dobbiamo intervenire sulle spiagge in modi diversi. L'amministrazione attuale che però ha dei rappresentanti nelle liste di Franco Ingrilli e quindi dovranno cambiare idea su certi argomenti e io me lo auguro che persone come il consigliere Galipò possano moderare queste voglie di cementificazione del nostro litorale. Sebastiano Gioffrida, proprio sull'argomento. Allora, per quanto riguarda il turismo sicuramente bisogna attenzionare tutte quelle attività di concerto con quello che è il porto, cioè quindi le attività a terra. Dopodiché bisogna interessare tutti gli imprenditori del settore, fare rete senza ombra di dubbio per dare la centralità a quello che è Capodorlando nel mondo e non solo qui. Dare la possibilità a chi ha già delle attività nel settore e chi vuole investire degli sgravi, sgravi che possono essere interessati sia per quanto riguarda le aliquote locali, quindi quelle tasse che si pagano a livello comunale e anche per quanto riguarda gli interventi. Per quanto riguarda la spiaggia io eviterei tutti gli interventi tampone che sono stati fatti e quando si fa un intervento di rifascimento verificare e controllare quell'intervento di rifascimento perché c'è stato uno per esempio sotto il club dei pescatori dove sono stati messi i sacchi, i sacchi sono purtroppo già a vista e quindi questi sono soldi spesi che vanno a male diciamolo in modo molto chiaro. Poi per quanto riguarda il depuratore mi spiace smentire Francesca ma non è così assolutamente la vicenda in quanto ti invito a magari parlarne tranquillamente dove ti potrò dare tutte le indicazioni che ho appreso dall'ingegnere Ivan Duga nonché responsabile dell'ufficio tecnico di Cefalù che ha avuto il grande lavoro per ottenere un progetto per rifare nuovamente il depuratore a Cefalù che ha la stessa situazione di Capodorlando. Oggi noi abbiamo un depuratore commissariato, un servizio del despurgo che non esiste quindi un carico di costi ai cittadini che oggi devono spurgare purtroppo i loro pozzi neri. Quindi hanno ottenuto un finanziamento milionario e la stessa situazione si poteva verificare a Capodorlando per cui purtroppo la pecca in questo caso sia di chi ci guida, io non so l'area tecnica, qualcuno non ha ottenuto quel finanziamento perché noi con un milione e 300 mila euro di intervento tampone non sono i 18 milioni di euro di Cefalù per il rifacimento totale del depuratore e dello spostamento soprattutto a Monte, cosa che era assolutamente da fare anche qui. Quindi nel nostro programma c'è anche questa linea. Tra l'altra cosa era previsto nel piano delle opere triennali lo spostamento a Monte. Io volevo rispondere sia a Sebastiano che ad Alessio su due punti, io non sono qua ovviamente bravissimamente, non sono qua per difendere assolutamente l'operato della vecchia amministrazione che mi ha visto in minoranza. Però io voglio dire ad Alessio che quegli interventi tampone hanno limitato sicuramente i danni che in passato si verificavano sul versante del centro e hanno ricostruito la spiaggia sul versante di San Gregorio, quelle opere a mare e i pennelli. Per quanto riguarda il depuratore, nel nostro programma c'è previsto lo spostamento a Monte ovviamente del depuratore comunale, tra l'altro previsto pure nel piano regolatore a Monte della linea ferrata. Il finanziamento di un milione e 300 mila euro è notizia di qualche giorno fa che ovviamente per adeguare quel depuratore alle norme attuali hanno chiesto in questi giorni alla regione ulteriori dell'uscitazione al comune perché è pronto il finanziamento di un milione e 300 mila euro. Ripeto, per adeguamento del vecchio depuratore. Dovremmo dedicarsi una puntata a parte. Faccio rispondere Carmelo perché lui da amministratore non è potenziale amministratore. Perché se no non riusciamo a chiudere l'assuntamento sono altri argomenti. Lo decidano gli elettori. Sicuramente. Allora, parliamo adesso di un'altra cosa perché parliamo di indennità dei consiglieri, degli assessori, del sindaco di politica sociale e di istruzione che era un altro punto che volevo trattare perché li racchiuderei tutti in uno. Ho sentito più volte dal lato e partirei con Alessio Micale della coalizione che sostiene al sindaco Salvatore Librizi il discorso legato all'indennità. Viceversa, dall'altro lato invece non ne ho mai sentito parlare. Quindi adesso chiediamo ai due consiglieri qual è l'intenzione sia dei consiglieri che del candidato a sindaco. Perché è un punto che interessa anche tanti. Si è tanto parlato in questi ultimi anni di come i politici guadagnano troppo. Non è il caso dei consiglieri comunali. Prendiamoci chiaro. I taggetti di presenza sono veramente ridicoli. però magari anche tra gli assessori, anche lo stesso sindaco, se si riuscisse a mettere da parte qualcosa per un fondo sociale e quantomeno come si è spesso professato ma mai fatto allora non sarebbe sicuramente male. Alessio Micale, è questa l'intenzione del vostro candidato? Perché mi è sembrato di capire così. Non è solo l'intenzione del nostro candidato ma è l'intenzione di tutta la coalizione a supporto del candidato ed è stata l'intenzione dei consiglieri comunali che hanno tentato di sostenere una proposta che dopo è andata edulcorata, si è persa per ragioni. Ma ciò non toglie che ora siamo, come dire, alla fine se dovessimo farcele è naturale che ci sarà una riduzione delle indennità. Un azzeramento totale del gettone di presenza per i consiglieri a supporto di quelle che sono le classi menambienti. Poi si vedrà come. Si vedrà anche in concerto perché sarebbe bello che fosse un messaggio di tutto il consiglio comunale. Questo perché? Perché la politica deve dare un segnale. Nelle elezioni nazionali c'è una percentuale di votanti molto bassa. Questo succede perché non hanno più affezione, non hanno più fiducia nelle persone che fanno politica e allora le persone che hanno principi sani devono fare politica nella maniera più giusta e più corretta. Uno di questi modi è sicuramente quello di ridurre le indennità per assessori e sindaco. Naturalmente questa non è, consigliere Calipò, una proposta populista. È un'indicazione che si dà, è un piccolo messaggio. Poi gli sprechi, quelli che si devono contenere, saranno sicuramente altri e sono sicuramente più sostanziosi rispetto al poco che possiamo fare. Ma diamolo questo segnale. Carmelo Calipò, il vostro punto di vista sotto questo aspetto? Guarda, io te lo dico e te la butto lì. Io non sono d'accordo rispetto all'azzeramento delle indennità perché lascerei ai singoli decidere se vogliono rinunciare alle indennità e te lo spiego anche perché. Personalmente lo farei, lo destinerei come ho fatto fino a questo momento alle miriadi di manifestazioni che abbiamo organizzato, tu ne sei partecipe dove nessuno ha preso un centesimo di indennità. Però so per certo che Franco Ingrilli rinuncerà al totale del suo compenso per destinarlo a un fondo, come si diceva prima, per le classi minabienti. Questa è notizia perché non mi sembra averlo mai sentito. Io posso permettermi di dichiararlo perché me l'ha detto personalmente Franco. Però, ripeto, se non vogliamo rischiare che la politica diventi un'aristocrazia o peggio ancora una plutarchia, nel senso un governo dei ricchi, dobbiamo dare la possibilità anche a chi non ha possibilità altrimenti di fare politica. Mi spiego meglio. Se una persona deve lasciare il lavoro parzialmente anche per impegnarsi nell'attività politica a tempo pieno, non può permettersi di lasciare l'indennità. Personalmente potrei permettermelo, quindi continuerei a dedicare, a dare il mio tempo a favore dei cittadini, però non vedrei di cattivo occhio se qualcuno non rinunciasse all'indennità o parzialmente. Quindi è una questione delicata, lascerei ai singoli la possibilità di decidere. Sebastiano Giuffrida. Noi per quanto riguarda questo argomento abbiamo le idee molto chiare. In quanto ci siamo riuniti abbiamo deciso che non ci interessano le indennità, per cui se dovessimo vincere le elezioni le indennità subito al 50%, ma arriveranno all'azzaramento, andranno a confluire in un fondo che si chiamerà di sviluppo e di solidarietà. Sviluppo per quanto riguarda le opere pubbliche eventuali da poter realizzare con quelle somme di dinero che abbiamo calcolato sono da 300 mila euro in su in cinque anni. Per cui una somma molto importante. Solidarietà per quel tema di cui tu stavi parlando è accennato anche le politiche sociali che verranno utilizzate per supportare le attività delle politiche sociali seriamente, perché oggi noi parliamo di politiche sociali ma purtroppo abbiamo una pianta organica ridimensionata in quanto c'è una dirigente bravissima e una persona, la signora Bontempo, che si occupano di questo argomento molto delicato e poi ci sono le associazioni. Per cui noi dobbiamo stare molto attenti a queste tematiche e supportare anche le associazioni. Faccio un esempio su tutti, il centro di ascolto o l'associazione Pink Project che ormai sono diventate delle eccellenze. Quindi attenzionare tutte le associazioni, attenzionare anche la parrocchia e soprattutto parlarsi, mettersi in rete, mettersi in comune per non duplicare gli interventi ed essere veramente fondamentali da questo punto di vista. Francesca Pietropaolo, sempre sull'argomento, d'accordo su quello che ha detto il candidato Io sono d'accordo con quello che ha detto Carmelo e per quanto mi riguarda non avevo preso nemmeno in considerazione questa domanda, nel senso ci sono tante associazioni in denità, non mi interessa, grazie a Dio vivo del mio lavoro e ci sono tante associazioni sul territorio che si occupano a livello di volontariato, di famiglie indigenti, di donne, bambini, vittime di violenza, quindi sicuramente se ce la dovessi fare saranno devoluti a questa associazione. Anche perché parliamo di un comune che non è come il comune di Caltanissetta di qualche anno fa che i consiglieri comunali durante un consiglio si aumentarono, però di Caltanissetta ancora più grave, si aumentarono il gettone di presenza a 80 euro a ogni seduta e si scoprì che facevano 23 sedute al mese, quindi vedete un po' come... Anche a Messina abbiamo messo in una città un esempio lampante di questo. Voleva chiudere? Sì, dicendo che Franco appunto in confidenza non voleva di SISVAPS, ma già... No, abbiamo detto una cosa che non voleva. No, quando magari per timidezza non so per cosa, quando è stato già candidato... Non lo faccio così timido. Quando è stato presidente del Consiglio, già parte della sua indennità era... Lo chiederemo naturalmente ai due candidati, vi anticipo che il 18 maggio, mercoledì 18 maggio, quindi fra due mercoledì, ci sarà il confronto tra i due sindaci, Franco Ingrillì e Salvatore Librizi, qui negli studi di Radio Doc. Allora, abbiamo tre minuti complessivamente, quindi mi hanno appena annunciato questo, quindi un appello finale per sia la vostra candidatura che il sostegno al candidato che appoggiate in queste consultazioni elettorali. Io partirei da Carmelo Galipò a seguire e finirei con Sebastiano Gioffrida. Prego. Io chiedo di votare Carmelo Galipò perché è un rinnovo dell'impegno che dal 2006 ininterrottamente do alla mia città e ai miei concittadini, un impegno rinnovato quindi in una coalizione ampia questa volta con un candidato sindaco che è riuscito a fare sintesi di diverse personalità di diversi punti di vista e del quale mi fido ciecamente. Ci credo in quella proposta, in quel progetto abbastanza ampio, abbastanza impegnativo che vedrà l'impegno costante di chi dal 2006 ad oggi ci ha messo la faccia. Per questo vi chiedo e chiedo a tutti i concittadini di sostenere questo progetto di Franco Ingrillì sindaco. Se potete votate Carmelo Galipò. Francesca Pietropaolo. L'appello a votare Franco Ingrillì mi viene dal cuore perché conosco Franco, conosco che persona è e quanta voglia ha di dedicarsi al paese insieme alla sua squadra. Votare Franco significa credere nel suo progetto e soprattutto credere in lui, nella sua persona. Franco è una persona che sa ascoltare, che ha fatto della sua serenità un valore e proprio grazie alla sua personalità è riuscito a mettere insieme persone di estrazione diversa come diceva prima Carmelo. Persone diverse che però puntano tutti allo stesso obiettivo, governare al meglio questo paese e farlo sviluppare sempre di più. Votate Francesca Pietropaolo se volete, votate i candidati della lista Partiamo da Capo che è l'unica novità vera di questa campagna elettorale. Bene, andiamo con Alessio Michale. Votare per me non è votare per me ma è votare per un modello, votare per delle idee, votare per tutti i ragazzi che stanno lavorando a crearle quelle idee con il loro impegno. Votare per Salvatore Librizi è votare per una persona che a questo risponde e risponde benissimo. Invece Salvatore Giuffrida e chiudiamo. Salvatore Giuffrida è una classica. Devi stare attento perché sai in cabina possono pure sbagliare. Tranquillo, tranquillo. Perciò che valga lo stesso perché l'intenzione dell'elettore... Iscrivi detto Salvatore. Salvatore della patria. Non c'è bisogno perché l'intenzione dell'elettore in quel caso è ben specifica. Allora, grande coerenza e grande lealtà verso il mio leader che è Salvatore Librizi. Da cinque anni ci impegniamo, non sicuramente da sei mesi, per cui con grande determinazione abbiamo portato avanti delle iniziative. Chiedo il consenso verso Salvatore Librizi perché rappresenta il vero cambiamento per questo Paese. È una persona con la quale si può parlare tranquillamente, è una persona che ascolta, è una persona che vi posso garantire frequentandolo ogni giorno da cinque anni a questa parte. È un vero leader perché ascolta veramente la classe dirigente, ascolta il gruppo su tutte le decisioni che ci competono e poi per quanto riguarda la mia persona io chiedo il consenso agli elettori, qualora lo volessero ovviamente esprimere ai miei confronti, per poter mettere a disposizione della cittadinanza quelle che sono le mie professionalità. Con Sebastiano Gioffreda chiudiamo la puntata di quest'oggi. La prossima, se tutto va bene, sarà dedicata al comune di Galatimo e Mertino e poi mercoledì successivo il confronto tra i due candidati a sindaci al comune di Capodorlando, Franco Ingrillì e Salvatore Librizi. Io ringrazio i quattro ospiti perché siete stati eccessivamente educati, eccessivamente lineari e bravissimi, complimenti. In fondo in fondo abbiamo rimesso un po' la campagna elettorale sui toni che speriamo tutti continuano ad esserci. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, la nostra regia, la nostra redazione e i quattro candidati che sono stati con noi. Grazie a te. Buonasera a tutti. A mercoledì prossimo, grazie. Su Radio Doc, chi c'è? 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 Tra il serio ed il faceto. Radio Doc Radio Doc Radio Doc T-R-O-C Musica a denominazione d'origine controllata Doc Radio